Ecco come fare l'aspirapolvere. Avete una feta biscottata? Bene, spaccatela intera. La spaccate intera e in pochi secondi scomparirà tutto. Via con l'aspirapolvere. Come potete vedere l'aspirapolvere ha forzato a fermo il suo lavoro. Nuova aspirapolvere ragazzi in vendita si chiama Ace. Lo affettiamo. Quando lo lasciamo un giorno rifugirà tutta la vostra casa. Grazie a tutti.